Oggi ti guiderò nella preparazione di un delizioso filetto di maiale, cucinato in modo tradizionale, con un tocco italiano. Ingredienti Un filetto di maiale di circa 400-500 grammi, due cucchiai di olio extravergine di oliva, due spicchi d'aglio, sale e pepe quanto basta, rametti di rosmarino, un bicchiere di vino bianco secco. Preriscalda il forno a 180 gradi Celsius. Sala e pepe e il filetto di maiale uniformemente su tutti i lati. In una padella larga, riscalda l'olio extravergine di oliva e aggiungi gli spicchi d'aglio e il rosmarino per aromatizzare l'olio. Una volta che l'aglio è dorato, rimuovilo e metti il filetto nella padella. Fai rosolare il filetto su tutti i lati fino a che non diventa dorato e sigillato. Trasferisci il filetto in una teglia da forno e versaci sopra il fondo di cottura con gli aromi della padella. Deglassa la padella con il bicchiere di vino bianco e lascia ridurre il liquido della metà a fuoco medio-basso. Versa il vino ridotto sul filetto di maiale nella taglia. Inforna la teglia e lascia cuocere il filetto per circa 20-30 minuti. A seconda dello spessore e delle tue preferenze per la cottura della carne. Controlla la temperatura interna del filetto con un termometro da cucina. Dovrebbe raggiungere i 63 gradi Celsius per una cottura medium. Una volta raggiunta la cottura desiderata, toglilo dal forno e lascialo riposare coperto da un foglio di alluminio per 5-10 minuti prima di affettarlo. Servi il filetto di maiale affettato con il suo fondo di cottura come salsa. Per un tocco in più, potresti aggiungere alla deglassatura con vino bianco anche un po' di senape o miele per creare una salsa leggermente più aromatica e moderna. E ricorda, è utile iscriversi al canale per rimanere aggiornati e visitare il nostro sito web.